Snipe snap dragon! Snipe snap dragon! Snipe snap dragon! Oh! Joyce Reynolds, sei una sbadata! Fatti attenzione! Snipe snap dragon! Snipe snap dragon! Stai attento, sono troppi! Tu non essere egoista! Snipe snap dragon! Molto più... Oh mio Dio, che spavento! Chi c'è lì? Cos'è stato, signorina Whittaker? Mi è sembrato... La signora Drake dice che lei ha una scrittrice. È quella delle storie di assassini. Sì. E ha un ispettore. Finlandese, non è vero? Sven Herson. Perché finlandese? Me lo sono chiesto spesso. Una volta ho visto un omicidio. Non dire sciocchezze, Joyce. L'ho visto. Oh, davvero? Ma no, non è vero. Non dire sciocchezze, cara. Hanno fatto tutti il gioco della mela. Chi sarà? È Halloween! Qualcuno ha visto la mia Joyce. Per come la vedo io ci sono solo tre possibilità per l'omicidio Beatrice White, Leslie Ferrier e la signora Luelan Smile Dica una cosa è successo Durante quello stupido Snake Dragon, molto divertente Snake Step Dragon, Snake Step Dragon Snake Step Dragon, Snake Step Dragon